Bella ragazzi! Se vi è capitato di andare su Amazon per acquistare delle punte o qualcosa che riguarda la meccanica, probabilmente vi sarete imbattuti in questo stranissimo oggetto e molti di voi magari sapranno anche di cosa si tratta. Viene fornito con una molla di ricambio, è formato così da due pezzi uniti con del grasso e una molla all'interno e questo oggetto qui serve a risolvere un problema che è veramente tedioso per chi fa meccanica di precisione. E ora andiamo a vedere di cosa si tratta. Ad esempio, questo pezzo qui dovrà essere fissato qui sopra e tramite quattro fori essere tenuto bloccato tramite quattro barre filettate. Il problema qual è? Il problema è trovare la corretta distanza da questo punto a questo punto dove dobbiamo fare il foro. Ora, in questo caso, anche se andassimo fuori di un millimetro, poi serrando le barre filettate, questo pezzo tenderebbe comunque ad autocentrarsi e avremo comunque un gioco per poterlo spostare e fissare dove vogliamo. Ma cosa dobbiamo fare se invece abbiamo la necessità di fare un foro più preciso? Beh, una delle soluzioni l'abbiamo fatta vedere nel video scorso 255. Possiamo segnare il pezzo con un pennarello a rapida essicazione e usare ad esempio un truschino a colonna per segnare i due punti dove dobbiamo andare a fare il foro, ad esempio. Oppure potremmo usare un truschino manuale per tracciare delle linee in modo anche più pratico. Qui poi si andrà a fare un'incisione con il bulino e con un trappo a una colonna e si potrà anche qui fare un foro con una precisione abbastanza discreta. Se invece vogliamo utilizzare il nostro strumento, adesso andiamo a vedere come e dove si applica. Dimenticavo di dire che ovviamente quelli che vi stiamo facendo vedere non sono tutti i metodi che abbiamo per trovare la distanza da uno spigolo o da un angolo al punto in cui dobbiamo effettuare una lavorazione. Ne esistono veramente decine nella meccanica. Uno di questi utilizza ad esempio il comparatore, ma è talmente tanto meno complesso e lungo da applicare sebbene sia preciso che non ve lo facciamo neanche vedere. Un altro mezzo molto grezzo per trovare una distanza da un pezzo è questo. Semplicemente un pezzo tornito a punta. Si inserisce sul mandrino e praticamente muovendo l'asse con la punta si va a trovare a occhio proprio la distanza fra lo spigolo e il punto dove dobbiamo forare. Qui la precisione si attesta intorno ai 2-3 decimi di millimetro se siete bravi. Un'altra operazione che si può fare avendo un cilindro di diametro 8 ad esempio questo che è 10 mm precisi si può utilizzare un foglio di carta. Lo si mette in mezzo fra il pezzo e l'asse e si avvicina lentamente facendo muovere il pezzo di carta in questa maniera fino al punto in cui, eccolo qui, il pezzo di carta non si muove praticamente più. A questo punto qui la distanza che rimane, leggende metropolitane narrano che si tratti di un decimo di millimetro. E' comunque un metodo abbastanza preciso, ci prende abbastanza anche questo. Andiamo adesso a montare il nostro apparecchio, il nostro strumento che si chiama Edge Finder e vediamo come si utilizza. Ecco il nostro strumento montato e abbiamo cambiato angolazione per farlo vedere meglio. Allora questa parte qui e questa parte qui sono esattamente due cilindri di materiale di acciaio temperato, apposta per evitare che strusciando sul pezzo si vada a consumare o a rigare. E questo è esattamente di 10 mm e questo è esattamente di 4 mm. Si può usare indipendentemente o l'uno o l'altro in base al tipo di misura che si vuol fare o dove ci si infila. A volte capita di dover centrare magari un foro all'interno di un altro foro più piccolo, quindi si utilizzerà la parte più piccola. Allora accendiamo la fresa con una velocità relativamente bassa intorno al migliaio di giri e man mano ci avviciniamo con questo pezzo fino a toccare la punta dello strumento e vediamo cosa succede. ovviamente adesso era storto ma non c'è problema, ci avviciniamo, vedete che man mano si va a centrare, siamo quasi a contatto. Adesso osservate la parte qui sopra e cosa succede quando vado a toccare esattamente il punto. Eccolo qui. Avete visto il tono indietro? Appena siamo esattamente centrati questo si muove sensibilmente verso sinistra. Vi assicuro che io che sto manovrando l'asse. La differenza tra qui e qui siamo intorno ai due centesimi di millimetro. Due centesimi di millimetro che si possono veramente apprezzare a tatto sulla manetta della fresa. A questo punto qui cosa si fa? Niente, semplicemente si va a togliere lo strumento, si setta lo zero e ci si muove di due millimetri. In questo modo qui avremo l'asse perfettamente centrato sul pezzo. A chi interessasse questo strumento possiamo mettere un link in descrizione. Speriamo che vi sia piaciuto anche questo video. Saluti da Caos la leggenda e iscrivetevi al canale se siete interessati ad altri tipi di video come questi. Bella ragazzi! Grazie! 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 Grazie!